Ovviamente c'è chi ci crede e chi non ci crede riguardo alla piattaforma Gamsgo dove tu puoi comprare servizi come Spotify, Netflix, Premium, YouTube, Disney+, tutte queste cose qua sulla piattaforma e quindi non sai se è legale o affidabile. Quindi in questo caso io ti posso far vedere direttamente che io stesso compro Netflix, tre mesi di Netflix, soli 12 euro, metto la carta di credito, compro e una volta fatto vado direttamente nella sezione degli abbonamenti, prendo così l'email, la password e la vado a inserire direttamente sulla piattaforma di Netflix. Accedo con quell'account ed eccomi qua. Entro così nell'account di Netflix e mi posso godere Netflix per tre mesi. Quindi in questo caso come funziona? In descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina di Gamsgo. Sulla personcina qua sopra fai direttamente accedi o accedi con un account Google o ti crei un account. Una volta fatto così l'accesso qui puoi vedere il tuo profilo, i tuoi abbonamenti ed eccoli qua. Tu qua puoi vedere tutti gli abbonamenti che hai comprato. Puoi vedere le mail, la password, tutto quello che vuoi. Puoi anche modificarla. Quindi in questo caso Spotify, quindi come puoi vedere Spotify 2 euro al mese con un totale di 24,99 euro più il codice promozionale da inserire qua sopra. Quando vai al pagamento, tipo hai un codice promozionale o un cupone, clicchi qua sopra e metti questo codice promozionale che ti ho lasciato. Una volta fatto l'oro ti danno Spotify, un account tutto tuo privato, personalizzato tutto tuo, te lo tieni per un anno intero e se vuoi rinnovare, rinnova così il tuo account. Perché sicuramente andrai a rinnovarlo perché ti sei creato una tua playlist, quindi ti danno proprio un account nuovo, quindi devi inserirlo direttamente su Spotify. Quindi e qui c'è scritto accedi, facciamo accedi, indirizzo email o nome utente e come ho detto sulla sezione degli abbonamenti prendi le mail e la password, tu fai accedi ed entri così nel tuo account e te lo tieni per un anno intero. Ti crei una playlist, ti fai tutto quello che vuoi a soli 24,50€ all'anno. Basta, senza pubblicità, tutto tuo. Se invece hai problemi puoi commentare sotto al video. Se non ti piace questa offerta, l'hai comprata e non ti piace puoi sempre chiedere rimborso su GAMSGO, chiedere direttamente assistenza qua sotto, tipo centro assistenza o contattaci e chiedere così un rimborso. L'assistenza è attiva 24 ore su 24. Il servizio GAMSGO è veramente ottimo e io mi sono trovato molto bene con Netflix, Disney+, Palamont+, e molti altri abbonamenti su Netflix. Quindi se hai problemi entra nel mio server Discord, puoi iscrivermi in privato o Instagram. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.